C'è troppo buonismo, è la denuncia del consigliere della tua Fanno Stefano Guzzi che nel giorno della partenza dei profughi dal Lido di Fanno ha deciso di dire la sua durante una conferenza stampa se l'avessi fatto prima sarei stato accusato di razzismo specificato in realtà la mia intenzione è quella di stimolare le autorità competenti e le associazioni che se ne occupano affinché in futuro queste persone vengano accolte con un atteggiamento più realistico O sei razzista perché non li accetti o devi essere per forza buonista perché tutto gli è dovuto ecco sono due cose soprattutto quella del razzismo assolutamente da evitare e occorre sostituirle secondo me con un sano realismo cioè guardando effettivamente qual è il problema e cercando di affrontarlo nella maniera più opportuna Nel 2014 a proseguita Guzzi in Italia sono arrivati 170.000 clandestini pagando mezzo miliardo di dollari agli scafisti e per il 2015 si stima che ne arriveranno ben 500.000 Capiamo e capite che far arrivare mezzo milione all'anno di persone da parte dell'Europa e dell'Italia significa finanziare l'ISIS significa finanziare chi fa guerra in quei paesi significa finanziare le loro mafie Il 30% dei profughi proviene dalle zone di guerra detto l'ex sindaco e quindi fuggono da uno stile di vita e da una cultura che non accettano vedendo come un miraggio il nostro modo di vivere Perché dovremmo essere noi che cambiamo il nostro modo di vivere per adeguarci a loro? Loro lo rifuggono che non gli sta bene allora perché dovremmo essere noi che non facciamo più i presepi nelle scuole che togliamo i crocefissi? Non vedo questa necessità Tutto questo poi si ripercuote anche a livello locale perché si crea secondo Aguzzi una difficoltà di inserimento sociale Non può essere che a Fano non ci sia un parcheggio che non è presidiato e dove si paga due volte se a pagamento o si paga anche se è libero Non può essere che ogni supermercato abbia davanti il suo estacomunitario che in qualche modo ti pone una sua esigenza, una sua richiesta Non può essere questa presenza massiccia, usuale di chiedere sostentamento attraverso una pratica che è quella dell'elemosina che può essere sì una situazione eccezionale ma può diventare uno stile di vita Inoltre noi li ospitiamo in questi alberghi senza porgli mai la questione del lavoro o di una regola Cioè questi cosa penseranno, ripeto, dell'Italia quando anche un domani avranno un permesso di soggiorno in mano ammesso che lo avranno che tocca lavorare, che sono delle regole oppure che basta stare un po' così a spasso a racimolare qualche soldo per vivere penseranno quest'ultima cosa ed è molto sbagliato Bisogna che capiscono, conclude il consigliere, che in Europa ci sono regole diverse e che devono essere rispettate quindi mediante convenzioni tra i comuni che li ospitano e le prefetture e grazie anche alla collaborazione delle associazioni senza rubare il lavoro a nessuno potrebbero fare del volontariato Arrivano, sono ospitate al plaso o in qualsiasi altro luogo il mattino ci si alza alle 8 perché all'8 e mezza arriva il pulmino che prende queste persone, li porta nel giardino pubblico che è da pulire o lungo la spiaggia che è da sistemare a mezzogiorno li riporta al plasa mangiano perché hanno finito il loro lavoro e il pomeriggio riposano se non si parte dal presupposto che c'è una regola c'è un utilizzo, c'è un approccio di questo tipo alla nostra società rimarranno profughi per sempre e non è questo l'interesse dell'Europa né del fatto sociale dell'accoglienza farli rimanere profughi per tutta la vita non è questo assolutamente che può succedere Sul fronte opposto il direttore dell'ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Fano Gabriele Darpetti che rimprovera ai politici di aver strumentalizzato la vicenda nella settimana santa si legge in una nota da persone che si definiscono cristiane e che in questi giorni andranno pure alla messa mi sarei aspettato un atteggiamento più tollerante e cristianamente accogliente alla segretaria Francesca Cecchini della tua Fano la quale aveva espresso solidarietà ai cittadini fanesi che sopportano il disagio provocato da gente che pretende di essere mantenuta e assistita invocando diritti e fregandosene di doveri risponde che non vuole nessuna solidarietà perché non ha sopportato nessun disagio a proposito dell'opportunità di farli lavorare poi Darpetti crede che sia profondamente sbagliato non si può insegnare un mestiere in pochi giorni a chi afferma non conosce ancora bene la nostra lingua e affidare un lavoro a chi non è deputato a farlo lo toglierebbe a qualcuno che invece lo fa di mestiere dispiace che Fratelli d'Italia e nello specifico Zaffini abbia voluto strumentalizzare la vicenda dice non si fa politica sulla pelle di persone che fuggono da situazioni tremende come guerre e fame rischiando la propria vita il direttore dell'ufficio poi ha speso parole anche per il segretario della destra Margherita Campanella la quale aveva affermato che lo Stato pretende che gli albergatori facciano accoglienza e che quest'ultima non la si può imporre infatti nessuno ha imposto niente a nessuno ha risposto Darpetti anzi in questo caso è stato il proprietario dell'hotel Plaza che ha visto come un affare poter riempire il suo albergo nei mesi invernali a spese dello Stato d'altra parte la Campanella a quanti accusano alcuni politici di approfittarsene chiede quanti profughi e immigrati abbiano ospitato a spese loro e nelle proprie abitazioni